Allora, riprendiamo per dimostrare solo che non ho le allucinazioni, poi vado a vedermi il filmato per capire cosa ho fatto, ma quando prima vi ho detto guarda che se io scrivo sel.vuoti.sort non funziona perché la classe vuoto non implementa il minore e poi in realtà sembrava funzionare e non aveva dato nessun errore. Allora, l'intervallo verificato, ma l'errore lo dà eccome, nel senso che sel.vuoti.sort senza la chiave mi dà l'errore che mi aspettavo, cioè il minore non è supportato tra l'istanza di un oggetto di tipo voto e un altro oggetto di tipo voto, che è quello che la logica suggerisce. Quindi non so dirvi perché prima non abbiamo visto questa eccezione, magari stavamo eseguendo una versione diversa del codice, non lo so, poi a volte nella fretta. Però è vera la cosa, diciamo così, logica, razionale, cioè se non hai definito il metodo less il sort non lo puoi chiamare. Infatti per farlo funzionare io potrei decidere, cosa che però non c'era nella versione che avevo testato, di aggiungere un order. A questo punto se io metto un order uguale true, questo stesso codice funziona. Chiaramente me lo ordina per nome, a parete di nome per cfu, a parete di cfu per punteggio eccetera eccetera, no? Secondo quell'algoritmo. Però in assenza di questo ordinamento, e magari lo toglierei perché non ha molto senso per questo tipo di oggetto, non è possibile usare il minore ma neanche chiamare il metodo sort. Quindi, prima abbiamo avuto delle allucinazioni collettive, non so come chiamarle. Mentre invece se usiamo uno qualunque degli altri metodi che abbiamo testato prima, allora il nostro libretto funziona, io ho aggiunto semplicemente una print, il libretto ordinato per esame e vediamo che c'è questo ordinamento A, C, F, I e così via. Ho anche, già che c'ero, ho messo a posto il calcolo della media perché adesso calcola anche i crediti, non solamente i voti nudi. Quindi con questo ci portiamo a casa, stampare il libretto in ordine alfabetico di esame, dobbiamo ancora vedere cosa vuol dire portarlo in ordine decrescente di voto. di nuovo è la stessa cosa, nel senso che potremmo anche qui implementare un metodo, vediamo questo che non c'entra niente, un metodo nella classe libretto che possiamo chiamare crea ordinato, def, crea ordinato per voto, per punteggio. E se usiamo la stessa tattica, lavoriamo su una copia e ordiniamo l'elenco della copia, quindi possiamo avere una nuovo uguale self.copy, un nuovo libretto, e poi su questo nuovo libretto possiamo fare l'ordinamento del campo voti, quindi potrebbe essere un self.voti.sort, chi è uguale, è buono perché non è quello che voglio, e poi ovviamente restituire il nuovo libretto. Adesso, ordinare per punteggio, noi potremmo decidere che il punteggio, se avessimo solamente i punteggi numerici sarebbe facile, perché potremmo dire semplicemente, che non so, lambda, voto, del voto estraggo vi punto punteggio. E poi, vabbè, lui mi suggerisce anche il diverso uguale true, perché giustamente li voglio, dal più bello al più brutto, in ordine decrescente di voto. Questo funziona se non contiamo le lodi, nel senso che ordina per valore decrescente dell'attributo punteggio, ma tra un 30 e un 30 lode non ha nulla che li distingua, in entrambi i casi la funzione chiave restituisce il valore 30, e quindi avremmo i 30 e i 30 lode mescolati nel libretto, nella stampa, anziché avere prima tutti i 30 lode e poi tutti i 30. Allora, come possiamo risolvere questo? Beh, uno potremmo, così come abbiamo implementato, vi ricordate un metodo str punteggio, che stampava il punteggio contando anche la lode come forma di stringa, in modo ben coordinato, potremmo definire nella classe voto anche una sorta di punteggio con la lode o qualcosa del genere, un metodo che se ho 30, se un qualunque voto senza lode mi restituisce il voto, se ho 30 lode mi restituisce chi vuoi, 31, 38, uguale. L'importante è ricordarci che sia un numero che debba essere maggiore di 30 e che quel numero non lo dovrò mai usare nei calcoli, mai usare nelle stampe. È semplicemente qualcosa che mi permette di avere un criterio di ordinamento. Lo posso fare, ma non ne ho bisogno. Cioè, cosa ho detto prima a voce? Ho detto, beh, io se i voti non sono 30, vanno bene tutti, se sono 30, a parità di voto 30 rispetto a un 30, vado a vedere la lode. Allora, quale valore posso estrarre da un voto che mi dia, quando confrontato con un altro valore analogo di un altro voto, mi dia questa cosa qua. A parità, se i voti sono diversi, chiaramente vale il voto, se i voti sono uguali, in particolare 30, vale la lode. Ebbè, la cosa più semplice è costruire una tupla, una coppia. Punteggio, lode. Quindi io quando ho due oggetti voto, la chiave che cosa farà? Dal primo oggetto voto mi crea una tupla, punteggio lode. Poi mi crea un'altra tupla, punteggio lode, e confronto alle due tuple. Il minore viene applicato tra le tuple. E cosa fa il minore tra le tuple? Confronta prima i due campi, punteggio con punteggio. Se i campi sono uguali, i primi campi sono uguali, confronta i secondi campi, cioè lode con lode. E sfruttiamo il fatto che true è maggiore di false. Spero. Verifichiamolo, dai. Verifichiamolo sulla console. True. È minore di false. Falso. Cioè, quindi true è maggiore di false, vero? True. Sì. E quindi se io ho un 30 senza lode, è minore di 30 con lode? Sì. Quindi questa è l'operazione che gli faccio fare. Se ho un 28 senza lode, chiaramente deve essere senza lode, è minore di un 30 senza lode. Sì. In questo caso le lode non vengono anche controllate perché ho prima controllato i numeri e i numeri sono uguali, solamente i numeri sono diversi. E se io invece un 28 è un 28, cosa mi dice? Mi dice che ovviamente non è minore perché sarà uguale. Quindi faccio fare questo tipo di operazioni, senza andarmi a complicare troppo la vita. Quindi costruisco un oggettino, in questo caso di topo tupla, che si confronti come piace a me. Quindi i tipici ordinamenti che sono variati su un campo o su più campi, con una certa priorità, cioè ordina per cognome, a parità di cognome, di nome, normalmente come tattica si costruisce una tupletta e si usa questa come chiave. Ok. Ci rimane, se non abbiamo più dubbi su questo, l'ultimo punto, cancellare dal libretto tutti i voti inferiori a 24. Qui il testo è esplicito, cancellare, qui non ristituire una copia con i 24 cancellati, ma cancellali proprio da quel libretto lì. Vabbè, noi magari lo parametrizziamo, 24 non sarà una costante, sarà l'argomento del metodo. Quindi un oggetto della classe libretto, a questo punto ci aggiunge a un metodo sulla classe libretto, def cancella, cancella inferiori a punteggio. E qui vado proprio a modificare la lista voti e li vado a eliminare. Quindi la prima cosa che mi verrebbe in mente può essere questa, for v in self.voti, if v punto punteggio minore punteggio, minore di punteggio, allora lo cancello, self.voti punto remove dv. E basta, non devo fare nessuno ritorno perché sto andando a modificare l'elenco dei voti. questo non mi piace tanto, per due motivi. Il primo motivo è che remove richiede un oggetto, no? E poi va a cercare all'interno della lista dove è quell'oggetto e lo cancella, o meglio, dove è la prima istanza di quell'oggetto. Cosa fa il metodo remove dentro, dentro di sé, nella sua implementazione? Prende la lista, prende l'oggetto v e va a controllare. Lista di 0, tu sei v? No. Lista di 1, tu sei v? No. Lista di 2, tu sei v? No. Fino a quando non trova quel v. Cioè noi abbiamo iterato sugli oggetti, il primo, il secondo, il terzo, il quarto. Quando arriva il quindicesimo e decido di cancellarlo, io so già che lui è il quindicesimo, so già che è lui da cancellare. Ma il metodo remove non lo sa e deve ripartire da capo, controllarli tutti per vedere quando c'è quell'elemento lì. Allora questo è una perdita di tempo. Cioè un'operazione che si potrebbe fare, poi parleremo di complessità, in una complessità lineare, cioè prendo gli elementi una volta sola, uno, ciascuno una volta sola, diventa di complessità quadratica, perché per ogni elemento vado a scandirmi la lista, poi per l'elemento successivo di nuovo remove mi scandisce l'intera lista, vabbè, lo scandirò sempre, solamente quando devo cancellare il voto, però ogni volta devo andarmi a leggere la lista una volta sola, quindi se andiamo a vedere il numero di confronti che vengono fatti è il proporzionale al quadrato della lunghezza della lista, quindi è un modo molto poco efficiente. Cioè so già, è facile da scrivere, poi Python ti porta a scrivere questa roba qua, però ho già in mano l'oggetto che ho estratto dalla lista perché ci sto iterando sopra, ma gli dico di cercarlo, e lo ricerca, e questo remove qua lo va a cercare, è come se facessi un find. Allora è molto brutto dire una cosa che ce l'ho già, la vado a ricercare. Allora cosa potrei fare? Potrei ricordarmi qual è l'elemento, quindi anziché iterare sulla lista potrei iterare sugli indici, no? Se io avessi gli indici potrei fare for i in range length di self punto voti, punto voti, allora vado a vedere if, non vi punto punteggio, ma sarà self punto voti di minore di punteggio. E allora avrò un self punto voti punto pop, vedete che remove richiede il valore, mentre pop richiede l'indice a cui cancellare l'elemento pop di. Quindi se l'elemento della posizione 10 è un voto brutto, cancella l'elemento della posizione 10. E non devo andarmi a vedere tutti gli elementi della posizione da 0.9 per vedere se per caso sono quello che sto per cancellare. Solo che questo non funziona. Ma anche quello di prima non funzionava. Perché in entrambi i casi sto facendo una cosa rischiosa, non per la mia salute ma per l'accuratezza del programma, che è quella di modificare una lista sulla quale sto iterando. Allora immaginiamo di avere i primi 3 voti brutti, poi dopo sono diventati tutti belli, ok? Quindi 18, 18, 18, 30, 30, 30, 30. Allora i primi 3 lo devo cancellare. Allora, vediamolo su questo che è più facile da vedere. Avrò l'indice 0, self di voti di 0 vale 18, è minore di 24, self punto voti pop di 0. Pop di 0 cancella il voto 0. Quindi lo cancello vuol dire che passo a questo. Poi il ciclo for ti incrementa la i. Quindi lo cancello vuol dire che passo a questo. Poi il ciclo for ti incrementa la i. Quindi vale 1. E quindi mi chiederò se questo 18 deve essere cancellato, i uguale 1. Ma l'altro 18 mi è sfuggito. Cioè il secondo 18 era quello che prima era nella posizione i uguale 1. Ma poi facendo il pop è andato in posizione i uguale 0. Ma io non me ne sono accorto e il ciclo for non lo sa e incrementa comunque la i. Quindi andrò a cancellare sicuramente questo secondo 18 facendo pop di 1. Ma quell'altro 18 rimane. Perché io, mentre io vado avanti con l'indice per l'iterazione, i numeri mi stanno tornando indietro. Perché se ne cancello qualcuno gli altri si spostano indietro di una posizione. Questo si vede facilmente con l'indice ma anche sopra con l'iteratore è la stessa cosa. In più poi si arrabbierà Python quando questo i cercherà di arrivare fino all'indice 5 perché il range era da 0 a 6 e non ci riesce. Perché nel frattempo gli elementi li ho tolti e quindi avrò poi un'eccezione che mi dice che l'indice non è valido. Nel caso precedente l'iteratore non si arrabbia quindi non mi dà errore. Che peggio ancora perché non mi cancella i dati e non me ne accorgo neanche tramite un'eccezione. Quindi prendiamolo anche qua come abitudine. Se sto iterando su una collection, su una lista, su qualunque contenitore, quello è sacro. Mentre ci sto iterando non lo cancello, non cancello elementi, non aggiungo elementi. Ok? Poi è vero che si può risolvere in tanti modi. Un modo potrebbe essere che se faccio pop decremento la i. Porcata assurda, uno vede che si funziona e non capisce cosa succede. Oppure il range lo faccio viaggiare al contrario, parto dal fondo e torno indietro, così quando cancello, cancello, si spostano elementi che ho già guardato. Cioè ci sono i modi, per carità. Però sono tutti accrocchi che sulla necessità si fanno. L'importante è riconoscere che c'è il problema. Se io vedo dentro un for fatto su una collection, voti, voti, il fatto che voti venga modificato in qualche modo, pop, remove, append, sort, quello che volete, campanello d'allarme. Andiamo a vedere che cosa succede nel merito, rischiamo di cancellare, di perderci degli elementi, di elaborare due volte gli stessi elementi. Allora, in questi casi, come si fa? Eh beh, si lavora o si lavora su due liste. Quindi mi faccio una copia, iter su una e cancello dall'altra, facendo attenzione anche lì agli indici che sto cancellando, oppure vado in modo, in questo caso devo cancellare, anziché prendere ciò che ho e cancellare ciò che devo togliere, costruisco una lista nuova che contenga solo ciò che non deve essere cancellato. Cioè, in questo caso conviene ragionare al contrario e dire ok, la lista nuova, voti nuovi, per ora non c'è nulla, iteriamo sui voti, se il voto, il punteggio del voto è è maggiore o uguale al punteggio richiesto, allora voti nuovi, punto append di B. E poi alla fine, ma solo alla fine, se è il punto voti, uguale voti nuovi. Cioè, io mi sono fatto una lista che sto costruendo, andando a estrarre alcuni dei voti di quelli della lista che già avevo, però se notate, mentre sto iterando su voti, non sto modificando voti, sto modificando voti nuovi. Poi modificherò voti, è certo che devo modificarlo, ma quando la modifico non ci sto più iterando, è già finita l'iterazione. Questa è un'operazione che non è particolarmente impegnativa dal punto di vista, tanto alla fine, iterare devo iterare, confrontare devo confrontare, che operazione tra virgolette pesante sto facendo, sto facendo un append, dall'altra parte facevo una pop o una remove, tra l'altro append è anche più veloce perché appende sempre in fondo, mentre la pop o una remove devono toglierla in mezzo e spostare gli elementi rimanenti. E attenzione, questa append, è vero che è una lista nuova, ho un oggetto in più, ma non sto creando gli oggetti voto, eh? Gli oggetti voto li sto spostando, sto duplicando solamente i riferimenti. Quindi se la lista fosse anche lunga, di mille, sposto mille riferimenti, non creo mille oggetti nuovi. Eh, ma però sto creando dei duplicati, degli oggetti, sì, ma tanto uno e due li butto via. Non mi importa. Non è che c'è un libretto che rimane, che condivide i voti con quello vecchio, è una lista in cui ho rimescolato gli stessi elementi che avevo in un modo diverso, selezionandoli sotto insieme. Quindi questo è per questo tipo di cosa più pulito, nel senso che non rischia di danno il risultato sbagliato. E tutto sommato non complica neanche. Quindi molte volte quando io devo manipolare una struttura dati, se devo modificarla mentre citero, eccetera, eccetera, conviene prendere un attimo fiato e dire, senti, questi sono i dati di partenza, questi sono i dati di arrivo e ricostruiamo ciò che ci serve. Così siamo sicuri di non modificarli. Sono pochissimi i casi in cui devo veramente lavorare sul posto e non posso per un attimo avere una copia dei dati per poterci lavorare, ok? Evitando ogni possibile. Adesso questa era una cosa semplicissima perché bastava appunto fare il foro al contrario e funzionava. Però in generale vediamolo come campanello d'allarme. Tra l'altro non serve neanche scrivere tutta questa roba qua, perché questo è il classico for append if. Quindi questo si può scrivere anche lì con una comprehension in python voti nuovi uguale v for v in self.voti if v punto punteggio maggiore uguale punteggio. La famosa sintassi che a me piace tanto delle list comprehension in cui creo una lista direttamente tra parenti di quadri scrivendo il modo per costruirla. Una lista fatta dagli elementi v, quali v? i v che ottengo iterando su self.voti, vedete che questa parte qua di codice è esattamente questa. Questo v, cioè l'elemento che uso, è esattamente quello che c'è dentro l'append e poi c'è la condizione if.v punto punteggio maggiore punteggio che è esattamente questa. E questa parenti di quadra è questa parenti di quadra qua. Quindi sono le stesse cose identiche. Se vi trovate a dover fare una cosa del genere, prendo una lista vuota e la costruisco iterando su un'altra lista, selezionando, estraendo, modificando gli elementi di quest'altra lista, probabilmente si può scrivere così in modo più compatto. Ma non è obbligatorio, sono quattro righe anziché una, non stiamo guadagnando nulla. L'unica differenza è che con la comprehension qua potrei già addirittura mettere self.voti di qua e non neanche bisogno di quest'altra. Ops, sono indentato male. Quindi questa è una possibilità. Crevo una lista nuova e poi la salvo al posto della proprietà giusta dell'oggetto, e nel frattempo la riempio, la stessa cosa si può scrivere in una riga sola senza la variabile accessoria. Ma è lo stesso, non preoccupiamoci più di tanto se non abbiamo... La cosa importante qui è che abbiamo riconosciuto la necessità o l'utilità di creare una lista nuova anziché modificare una lista esistente. Prima abbiamo modificato i voti e non ci creava problemi, perché non stavamo modificando la lista, stavamo modificando il valore degli oggetti contenuti nella lista. Ma la lista stessa non cambiava, quindi ci potevo iterare sopra tranquillo. Qui invece che dobbiamo modificare la lista, aggiungere, togliere cose, allora aggiungo, tolgo, su una cosa su cui sto iterando, devo fare attenzione bene agli elementi che sto pescando. E quindi noi possiamo a questo punto, testiamo anche questo metodo, prendiamo quello ordinato, punto, cancella inferiori a 24, sul libretto ordinato senza i voti brutti e dovremmo vedere che questo libretto senza i voti brutti ha solo 6 voti e tutti maggiori o uguali a 24, chiaramente la media ne ha avuto un beneficio. Ok? Questo era il metodo che abbiamo chiamato cancella inferiori. Questo qua va bene, lo commentiamo per non averlo implementato due volte, ma è equivalente a quello successivo. Di nuovo abbiamo, ricordiamoci, l'abbiamo deciso, ma il testo era esplicito che questa volta vogliamo modificare il libretto stesso e non restituire uno nuovo. Quindi c'è sempre questa costante domanda, ma modifico questo oggetto, ne costruisco uno nuovo, ne costruisco uno nuovo con una coppia superficiale, con una coppia profonda, che poi ci fanno capire dove vanno i nostri oggetti. Ok. Direi che ci siamo portati a casa l'intero esercizio, ma non sono tanto le 200 righe di codici che abbiamo scritto, ma più che altro, diciamo così, i ragionamenti che abbiamo fatto intorno. E questo per prendere dimestichezza con gli oggetti che abbiamo imparato nell'ultimo mese, anzi, nelle ultime due settimane e mezza, e a livello di libretto abbiamo costruito una lista di oggetti. La classe libretto alla fine crea e gestisce una lista di oggetti. La lista non è l'unica struttura dati che ci serve, è una delle più versatili, non è l'unica struttura dati che ci serve a contenere dei valori. Quindi io, nel poco tempo che ci rimane oggi e quello che avremo a mercoledì, provo a farvi una carrellata, alcune cose le abbiamo già viste, le conoscete già, sono solo un, diciamo, di rifrescare la memoria che comunque male non fa, e alcune cose sono nuove, di quelle che sono una serie di altre strutture dati, contenitori di dati, che hanno caratteristiche diverse rispetto alle liste, sono un pochino più, diciamo così, specializzati per certi compiti. Allora, io ho provato, ho trovato questa classificazione che mi è piaciuta, di quelli che sono i possibili scopi per cui abbiamo bisogno di raccogliere degli oggetti con caratteristiche diverse. Quindi abbiamo la necessità a volte di creare il dizionario delle mappe, cioè qualche cosa che mi metta in corrispondenza un tipo di oggetto, un tipo di valore con un altro valore. oppure avere strutture dati intensicamente sequenziali, che in un caso accedo per valore di una chiave, nell'altro caso accedo per posizione. Oppure voglio semplicemente contenere dei record che hanno più campi, ma questi campi tra di loro non sono correlati, semplicemente sono messi insieme. Oppure voglio raccogliere degli insiemi, insiemi di elementi, quindi privi di duplicati, ma anche privi di ordine intrinseco. Oppure voglio gestire delle code, code first in, first out, per gestire tipo un buffer di operazioni, o last in, first out, per gestire la memoria recente di alcune operazioni in sospeso. Oppure delle code cosiddette prioritarie, cioè in cui gli elementi vengono elaborati non in ordine di arrivo, l'ultimo arrivato, il primo arrivato, ma in ordine di priorità. Passa davanti chi è più importante. Ecco, queste sono sette categorie di utilizzi diversi dei contenitori. Sotto ci sono scritte le strutture dati della libreria standard, non mi sono allargato a prendere cose forse della libreria standard, anche se ci sono, che possono essere usate per implementare quello scopo lì. Quindi, la prima riga è un'esigenza algoritmica, mi serve qualche cosa a cui io posso accedere in modo sequenziale. Sì, però questa cosa sequenziale io so che aggiungerò sempre in fondo e estrarò sempre dall'inizio per fare una coda LIFO. No, FIFO, scusate, in questo caso. E quindi quali sono i tipi di strutture dati che posso usare per ottenere questo scopo? E si vede già subito che la lista compare in tanti posti, compare qui, compare qui, compare qui, compare qui. È un tipo di dato generico, versatile, che può essere usato in diversi modi, dipende da come lo uso. Il dizionario anche compare sia qui, sia qui. Può essere usato in modi diversi. Poi invece ci sono delle classi che compaiono, dei tipi di oggetto che compaiono solamente in alcune colonne perché sono dei contenitori specializzati. Fanno bene quel lavoro lì. a volte tendono a farlo meglio rispetto al contenitore generico tipo la lista. In modo magari più efficiente con delle funzioni in più dedicate. Poi ovviamente la vita non è mai così semplice perché non sarà quasi mai vero che ti serve una struttura dati per fare solo una di queste cose. Ti serve una struttura dati un po' in modo sequenziale e un po' in modo fifo perché a seconda delle parti del programma allora devi trovare una struttura dati che ti permette di essere usata in entrambi i modi ad esempio. Però almeno una carrellata un modo per aiutarci a ragionare non ha senso presentare cento struttura dati in ordine alfabetico. Andiamo a analizzare dal punto di vista delle prestazioni che ci danno delle operazioni che ci permettono di fare. Non le andiamo a vedere tutte chiaramente perché molte di queste sono fin troppo specializzate e alcune di queste sono pensate solamente per una elaborazione parallela. Quindi quando tu hai più processi che in parallelo fanno cose diverse si devono scambiare dati eccetera quindi molte di queste implementazioni sono varianti parallelizzabili di strutture dati che normalmente sarebbero centralizzate. Un pochino ci ricordo non so se vi ricordate questa tabellina no non la ricordate perché questa tabellina l'abbiamo aggiunta dopo. Ricordate il foglio delle funzioni che avevamo il primo anno per dare l'esame ecco l'ultimo anno ho aggiunto anche questa tabella qua quindi voi non l'avete vista dal vostro tempo in cui ho provato a riassumere per le cinque strutture dati principali cioè predefinite stringa, lista, tupla, insieme, edizionario qual era la sintassi o i metodi per fare delle operazioni che ho cercato di descrivere in modo più generale più ad alto livello. quindi questo può una tabella sinottica di tutte le operazioni non tutte e tutte quelle principali quelle fondamentali spalmate sulle varie tipi di strutture dati chiaramente vedete che in alcuni ci sono dei vuoti perché la funzione di modificare un elemento in una stringa in una tupla che sono dati immutabili non si può fare chiaramente e quindi mancano alcune funzionalità in alcuni di questi oggetti ma questo è un po' riassunto di cose che sapevamo già l'ho solo messa in ordine per facile consultazione e qui saltiamo la parte sull'ordinamento che abbiamo visto prima e proviamo iniziamo un pochino a vedere questa carrellata mettiamo la prima parte adesso e poi completiamo mercoledì allora dizionari e mappe o tabelle di hash sono quelle strutture dati che ti mappano una chiave verso un valore questa frase qui l'abbiamo sentita dire quando ci raccontavano i dizionari che è la struttura di dati più semplice nativa di python che ha questo comportamento e qua a fianco in questa tabellina ho riassunto i metodi principali della classe dict quindi ogni qualvolta abbiamo bisogno di salvarci un valore più articolato in corrispondenza di un valore univoco che ci permetta di riconoscerlo possiamo usare un dizionario qui c'è scritto che è una struttura molto efficiente cioè il tempo per aggiungere o cancellare ritrovare un elemento se conosco la chiave è costante tempo costante vuol dire che nel dizionario non succede mai che i metodi predefiniti vadano a cercare tra tutti gli elementi possibili del dizionario conosco la chiave vado a pescare lui punto per aggiungerlo per ricercarlo per cancellarlo quindi anche ad esempio la cancellazione di una chiave col pop cancella quella chiave lì e non ha bisogno di spostare gli altri elementi come succederebbe con la struttura trisquenziale ok e quindi ha una serie di metodi ma oltre che avere una serie di metodi anche la sintassi predefinita con le parentesi graffe chiaramente le sintassi speciali c'erano solamente gli oggetti super predefiniti tipo la lista la tupla insieme i dizionari le altre classi ovviamente lavoreranno con i metodi e non con le parentesi quadre per dire questo lo conoscevamo già e abbiamo anche già sentito dire che non posso usare un qualunque tipo di oggetto come chiave di un dizionario ma devo usare un oggetto che abbia una proprietà particolare primo anno dicevamo un oggetto immutabile adesso che conosciamo un po' meglio gli oggetti cerchiamo di capire meglio cosa vuol dire non immutabile ma un oggetto di tipo hashable allora come funzionano internamente i dizionari i dizionari funzionano con un trucco per essere efficienti efficaci o quasi tutte le strutture dati di tipo mapping che mappano una cosa su un'altra prende la chiave e trasforma la chiave in un numero attraverso una funzione che viene detta funzione di hash questo numero viene usato per indicizzare una tabella per indice quindi supponiamo esempio stupido voglio avere una tabella indicizzata per nome fulvio ok come faccio a estrarre un numero dalla parola fulvio potrei pensare di fare la somma dei codici asci delle sue lettere e viene un certo numero ok non so verrà un numero l'ordine di le codici asci sono l'ordine 70 come codici lungo 6 lettere 6x742 l'ordine è il 500 via poi se tu ti chiami Antonio fai la stessa operazione ti verrà un altro numero a me magari viene 503 a te viene 580 Paola avrà un altro valore ancora quindi con un'operazione aritmetica senza senso prendo un qualunque oggetto e lo converto in un numero se gli oggetti sono uguali i numeri saranno uguali se gli oggetti sono diversi dipende può darsi che i numeri vengono uguali o che vengono diversi però abbiamo già un primo test velocissimo calcolo il numero che mi dà l'uguaglianza se due numeri sono uguali se due oggetti sono uguali di sicuro i loro numeri sono uguali viceversa se due numeri sono diversi di sicuro gli oggetti corrispondenti sono diversi poi ho un caso di falso positivo in cui possiamo avere due oggetti diversi che mappano il suo stesso numero cioè la funzione non è una funzione iniettiva posso avere più oggetti diversi poiché calcolo un numero pensate un oggetto con 20 campi se devo riassumere in un numero chiaramente potrò avere delle sovrapposizioni delle collisioni come le chiamiamo in gergo allora una buona funzione di esce è una funzione che prende i valori del dato e calcola un numero in un range possibilmente molto ampio evitando le collisioni più probabili tipo appunto fare la somma delle lettere dei codici di asci delle lettere di un nome non è una cosa molto furba perché ad esempio tutti gli anagrammi avranno lo stesso numero perché faccio solo la somma allora magari io potrei fare la somma dei codici di asci moltiplicati per le potenze dei numeri primi della prima lettera per due della seconda lettera per tre alla seconda cose di questo genere c'è chi si occupa di aritmetica e criptografia che sa fare queste cose e sa trovarci quali sono le funzioni più robuste funzioni di hash più robuste allora l'importante di che una funzione di hash allora la proprietà di base è semplice se due oggetti sono uguali devono avere la stessa funzione di hash fine quindi per assurdo uno potrebbe dire funzione di hash uguale a zero a tutti a tutto il mondo però poi le strutture dati poi faticano di più perché tutti gli oggetti sono zero quindi per trovare quello giusto devo andare a cercare uno per uno se invece questi oggetti sono equipaggiati ciascuno con un numeretto magico diverso questo numeretto viene usato non vi faccio i dettagli per andare ad accedere direttamente a quell'oggetto all'interno della memoria quindi la funzione di hash furba spalma molto bene i valori su un insieme di numeri non sul range da 0 a 500 ma da 0 a 2 a 32 su tutti gli interi possibili in modo da cercare di ottenere numeri con una probabilità di collisione bassissima questo mi dà l'efficienza più è bassa la probabilità di collisione più è efficiente l'uso della struttura dati ok allora tutti gli oggetti predefiniti in python hanno già una funzione di hash predefinita sia gli oggetti che creiamo noi la cui funzione di hash è un pochino stupida perché è l'indirizzo di memoria e quindi se io creo una copia di un oggetto questo qua ha una funzione di hash diversa non è bello e quindi posso definirla ma gli oggetti built in tipo le tuple l'insieme eccetera hanno già questa funzione di hash predefinita già nella libreria standard quindi non ce ne dobbiamo preoccupare ce ne dobbiamo preoccupare solamente quando creiamo noi un nostro oggetto allora quando creiamo noi un nostro oggetto se vogliamo se non è obbligatorio se vogliamo che quell'oggetto possa essere usato come chiave di un dizionario allora dobbiamo definire una funzione da under hash fatta da noi e tipicamente quello che facciamo è prendere un po' di campi che sono quelli importanti nel nostro oggetto che sono quelli su cui lavora il metodo equals perché se deve valere questa relazione tra l'uguaglianza e la funzione di hash devono lavorare sui stessi campi li metto in una tupla e faccio fare l'hash di quella tupla per pigrizia si fa così hash tupla campi che mi interessano fine però lo posso lo posso fare vabbè qui dice se li vuoi usare in un set in un dizionario in un frozen set devi implementare queste funzioni quindi questa è la condizione ci serve se vogliamo che l'oggetto sia utilizzabile all'interno di un insieme o come chiave in un dizionario altrimenti non ce ne dobbiamo preoccupare quindi questo è l'unico l'altra l'altra richiesta è che questo valore della funzione di hash non cambi mai durante il ciclo di vita dell'oggetto cioè una volta che io visto che quel numerino viene usato per posizionare l'oggetto in memoria in un luogo in cui sia facile da ritrovare se poi quell'oggetto cambiasse il valore di hash non lo trovo più perché io lo andrei a cercare in quel luogo lì dato dal primo valore allora è un requisito un pochino più leggero di quello che avevamo imparato il primo anno dicendo dentro un dizionario posso usare solamente oggetti immutabili possono essere oggetti che mutano ma non mutano nei campi che vengono usati nell'equals e nelle tabelle di hash è una finezza dopodiché è un caso particolare per ricordarci che però non tutti gli oggetti possono essere usati come chiave in un dizionario ecco esistono poi altri tipi di classe che in qualche modo estendono il dizionario una che è famosa se la trovate su internet parla tantissimo di una classe che si chiama order dict dizionario ordinato che in realtà non ci serve perché dal python 3.6 in avanti i dizionari sono già ordinati per ordine di inserimento ovviamente non per valore della chiave perché non ha senso le chiavi sono sparse sono un insieme quindi una classe che esisteva nella versione precedente di python veniva molto usata e consigliata se vuoi mantenere l'ordine usa quella classe se vuoi usare un dict poi a un certo punto è diventato il comportamento base per il dict quindi ce la possiamo dimenticare mentre invece c'è una classe utile che si chiama default dict che è un nome un po' strano che non vuol dire il dizionario di default ma il dizionario con dentro un valore di default predefinito cioè voi sapete che quando leggete un dizionario di chiave nel caso in cui la chiave non esista vi da un'eccezione key error sacro santa e allora abbiamo imparato prima di leggere un dizionario se non sono sicuro che la chiave ci sia o ci metto una if davanti se c'è la if chiave in dizionario allora lo leggo oppure uso il metodo get torniamo indietro d.get è un metodo del dizionario che ha due parametri il primo è una chiave uguale a quella che avrei qui e il secondo è un valore di default che il metodo get restituisce nel caso in cui la chiave non ci sia quindi è come dire se key esiste allora di key di di key l'elemento corrispondente con la chiave se la chiave non esiste anziché dare eccezione restituisce questo valore quindi tipicamente se voglio incrementare qualche cosa per distinguere dal caso in cui la prima volta che lo incremento deve partire da zero ma quello zero non c'è allora ho sempre un if al posto di quest'if si può gestire con questo valore di default la stessa cosa ti fa viene automatizzata dalla classe default dict che nel momento stesso in cui crei il dizionario dici guarda tutte le volte che vorrò accedere ad un elemento se non c'è costruiscimelo così in questo caso gli passa una funzione che restituisce un oggetto di quel tipo il valore di default tipicamente se questa funzione è int restituisce uno zero se la funzione è str restituisce la stringa vuota se la funzione è list restituisce una lista vuota se voglio qualche cosa altra come valore di default ci metto una lambda che mi costruisca il valore che voglio e quindi questo in automatico quel dizionario non mi darà mai eccezione keyerror perché se cerco di leggere una chiave che non c'è anziché dire keyerror chiamerà questa funzione e si farà creare il valore che mi serve quindi se vi accorgete che si vede tante volte dizionario.get .get .get per evitare il keyerror magari considerate di creare un default dict anziché un dict normale e vi fa già questo lavoro per voi un altro tipo di dizionario che può essere utile ha un nome strano che io dal nome non capirai mai cosa serve mapping proxy type dentro il modulo types che cosa fa prende un dizionario normale e crea un dizionario uguale anzi in realtà lo stesso dizionario non va neanche a fare una copia ma da questo oggetto dizionario cancella tutti i metodi che permetterebbero di modificare il dizionario stesso quindi di fatto se tu gli dai a uno questa variabile questo read-only dictionary lui non può più fare aggiungere elementi non può più cancellarli non può più fare pop non può più e quindi diventa una copia questo è il mio dizionario ti dirò una copia però mi sono messo al sicuro tu non potrai mai chiamare nessun metodo che me lo modifichi quindi è un modo per costruire un oggetto read-only di un dizionario esistente quindi non ne crea una copia è lo stesso quindi se io modificassi questo stesso dizionario io che posso perché ho quello vero tu vedi la modifica ma non puoi fare modifiche di tuo è un modo che può essere utile per proteggerci in una parte del programma sappiamo che quella cosa lì non si può modificare per definizione per costruzione questo dizionari come vedete gli altri non li abbiamo neanche citati poi l'altro istituto dei dati principali è quello della sequenza le tre sequenze fondamentali che abbiamo visto dalle prime lezioni sono del primo anno sono la lista la tupla la stringa funzionano tutte nello stesso modo nel senso che sono sequenze di elementi che passano da zero arrivano il quindice parte da zero arriva fino alla lunghezza meno uno alcune cioè la lista sono modificabili le altre sia tupla che stringa sono non modificabili i tipi di dati contenuti dentro lista dentro tupla è qualsiasi il tipo di dato costruito dentro stringa invece non sono caratteri ma questi li sappiamo usare ci sono poi tipi di sequenze specializzate anche qua che fanno un certo lavoro in modo specifico le cito queste non ci serviranno quasi mai array è un tipo di lista di cui viene diciamo forzato il tipo di dato degli elementi cioè mentre una lista o una tupla possono contenere qualunque valore quindi ogni elemento può essere un oggetto può essere a sua volta una stringa può essere un numero quello che volete ogni elemento può essere diverso come normalmente succede in python tu hai un riferimento a un oggetto che puoi avere il tipo che vuole array invece ti obbliga a dichiarare qual è il tipo io voglio un array una lista di elementi che contenga solamente dei float f o degli interi d con dei codici diciamo così questo crea una struttura dati interna molto più compatta perché non deve memorizzare anche il tipo degli elementi ma solamente il valore quindi se uno dovesse memorizzare delle liste molto grandi anche quel piccolo risparmio di spazio gli può permettere di avere un programma che occupa meno memoria però solamente per liste che contengono dei byte degli interi o dei float non posso contengere degli oggetti o delle altre liste o cose di questo genere quindi è un uso molto molto specializzato così come la stessa cosa se voglio contenere solamente dei byte costruendo un array mutabile o immutabile diciamo se qualcuno lavora a basso livello può avere bisogno di queste strutture dati altrimenti vanno benissimo la lista di interi la categoria successiva è quella dei record anche qua abbiamo già conosciamo già quattro modi di rappresentare un record c'è un contenitore di un dato che a sua volta è articolato su più campi fino adesso abbiamo fatto oggetti class definisce un oggetto di tipo record definendone gli attributi dentro il costruttore data class uguale e abbiamo detto che è una sintassi più semplice per ottenere la stessa cosa definisci gli attributi elencandole il tipo un dizionario si può usare anzi il primo anno che non conoscevamo gli oggetti usavamo i dizionari per contenere dei record concettualmente non è molto diverso in questo caso sono attributi in questo caso sono chiavi la sintassi è un pochino più pesante perché c'è la parentesi quadra le virgolette anziché semplicemente il punto e poi i dizionari chiaramente non hanno i metodi hanno solamente i valori però si possono usare anche in quel modo così come l'oggetto dei poveri è la tupla dove i campi non si chiamano type e year ma si chiamano 0 e 1 il primo e il secondo se mi ricordo cosa è 0 cosa è 1 mi basta quello in tutti i casi sono delle strutture dati in cui ho un'informazione rappresentata da più campi questi campi sono sempre gli stessi e sono riconoscibili tramite il nome di un attributo il nome di una chiave o una posizione in una lista anche qua ci sono dei tipi record più specializzati ad esempio c'è una classe che si chiama name tuple una tupla con nome che è una via di mezzo tra la tupla e l'altra classe cioè ti permette di memorizzare i dati come fossero in una tupla ma indicizzarli anziché per numero per nome e quindi puoi creare un oggetto name tuple che si chiama car e che ha questi due attributi e quindi puoi creare degli oggetti specificandone il valore devo dire che da quando hanno introdotto le data class è più comodo usare direttamente le data class piuttosto che non creare una name tuple c'è anche un'altra versione di name tuple che ha una sintassi più simile a quella di una data class è un altro modo alla fine di fare una data class essenzialmente quindi trovate queste cose anche qua se cercate documentazione in giro spesso vengono citate però il vero vantaggio della name tuple è che alla fine è una tupla e quindi è immutabile sei sicuro che nessuno te la tocca però puoi benissimo anche fare una data class con l'attributo non modificabile e succede la stessa cosa quindi per questo da quando mi sembra che sia il 3.9 la versione 3.9 di Python hanno introdotto le data class alla fine sono abbastanza versatili da coprire anche gli altri tipi di su tutti i dati preesistenti quindi noi rimaniamo alla fine su questi 4 capi saldi di cui il 2 di destra alla fine sono due modi diversi di scrivere la stessa cosa ok allora oggi mi fermo qua mercoledì andiamo avanti su capitoli che ci rimangono che invece sono qualcosa di un po' nuovo